ci siamo ci siamo, bella sfida contro questa squadra che tutte le volte mi fa soffrire tutte le volte mi fa soffrire, Riperton-Posi bellissima, Griner-Austin bellissima sugli altri gli do un po' il giro, devo sfruttare ovviamente René Grace contro Mamadi Roy che è molto più grosso fisicamente di René Grace ma non gli dovrebbe tenere il passo vabbè andiamo e poi loro hanno due scorer puri come Riperton e Griner speriamo non rompano troppi ok ok vai io sono un team completo, loro per niente, però c'è anche i due lì Riperton e Griner, allora su Griner voglio, eh Austin soffre quelli in uscita dai blocchi come Griner vabbè li lascio in auto, li lascio in automatico, vediamo un po' Kudas Coliseo 5-3 loro 5-3 loro sono tra i primi 5-3 loro cazzo il 5 e il 50 io boh 5-3 mi sa che è il loro miglior record in carriera 15 di media io gioco in caso deve essere andato agli Ottawa allora mettiamo a posto ora Riperton borka troia che ho paura lì ascolta tight ovviamente in ball pressure e tight anche qui per forza Griner facciamo tight e proviamo ad andare aggressivi con Austin deny ball mamma di Roy forse non tira però lo lascio così per adesso Brancati tira stiamo tight Dick Naru ecco lui invece anche lui tira 78-3 devo stare attento porca troia li odio quando ci sono i centri così Kirkmeier invece no e facciamo gap gap Titov tira Pippen Lewis Dishon Stevenson Basileschi Parker in auto AIM gap e poi questi non entrano dai ok direi che possiamo andare andiamo dai 7-1 ragazzi record super mannaggia giochiamoci il bello gli scarpini arancioni di Morep ci siamo già ci siamo già ci siamo già ci siamo già con i falli da 3 punti ci siamo già contiamoli a questa partita a 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 Easy posey, easy posey, let's get it, molto bello, bella esecuzione chi l'ha messo? Scusa, devo capire perché devo capire chi sta tirando bene Dick Naru, proprio il centro Stai, stai Austin, bravo, bravo Austin Ah, va bene, bravo Gray, fino in fondo, bravo, 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 bravissimo Previti liberi Let's go Bravo Austin Gio buono Dick Naru, porca troia Dick Naru, che giocatore Bravo Nogre, bel taglio, schiacciagli in faccia lì però, molto bello, bel attacco, organizzato bene Segui, segui René, bravo Ah, la troia, porca madosca Mamadi del cazzo Bravo professore, bravo porca due professore Adriano, Juan Guarda che bello Finta di post, via col gancio Stiamo, stiamo, stiamo Bravo Nogre Così Adriano Così Adriano, così Adriano, grandissimo, grandissimo Quattro punti fondamentali, Juan Questo è il cervello che voglio Grande giocatore Adriano, grande giocatore Adriano Non è Piquito ovviamente, è un altro tipo di giocatore È un altro tipo di giocatore Ma grande presa per me Ok, Kirkmeier, si cambia difesa, eh Questo non tira da tre Quindi possiamo lasciare in gaffo C'è una troia, ste triple Bravo, bel taglio, Watts Bravissimo Grande palla Malik Che bello Ah, peccato, Woon, bravissimo Bravissimo, Woon Bravissimo, Woon Niente da dire, bravissimo, Woon Va bene Mi palla già in bocca Un centro Peccato, Woon Hai fatto un grande movimento Ti è mancato la conclusione Segui, segui, segui Bella difesa Non lo dico neanche più Non lo dico neanche più Non lo dico neanche più E prendete il fallo No, no, no Ok Non lo dico neanche più Let's go Dai che li massacriamo di falli oggi Dai Segui, 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 bravissimo Stai che dì, tira Stai che chiestine son tira Mai, 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 mai può andare questo Oh, che bello Spettacolo, Sanquan Spettacolo, Sanquan Che pallina Che pallina Che pallina Avanti Ci siamo, ci siamo Ci avete accesi Bravo, unico Grande palla, unico Vintage Stevenson proprio Vaffanculo Ah, peccato, 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 peccato Va bene, va bene Va bene, va bene Bravi Ok, più uno Bel match, bel match Bel match Austin non sta facendo ricevere una palla Greiner Fuori in fondo Posta Posi Inspiegabile Pupi Beh, di Eh, madonna mia Sto mamma di Roy Cazzo Rompere più i coglioni Lui che 3 su 3 dal campo Juan Adriano Porco 2 Da rosa Segui Bravi Bravi Si va con il troppiede Austin 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 Cos'hai fatto Cos'hai fatto Stan Dentro l'area Cazzo Con un centro Sai fare tutti i ruoli Lo sappiamo Stai 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 Mamma mia Mamma mia Che palle Però grande difesa Su 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 Ripreto Stiamo facendo sbagliare tutto Sempre lui Non tradisce mai da 3 La speranza Che bella palla fuori da dude Che bella palla fuori E dai che esplodiamo E dai che esplodiamo Più 6 Let's go Kamadoska Avanti 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 Ma che cazzo è successo Mamma di dio Adriano Avanti Avanti Riperton non c'è Riperton non c'è per niente In fondo Non lo puoi fermare Non lo puoi fermare Più 8 C'è Timmy C'è Timmy Segui Segui No ho sbagliato Ho sbagliato tutto Ho sbagliato tutto Ho sbagliato tutto Volevo chiamare L'hand off Sbagliato il tasto Bella D Non può E dai E dai E dai E dai Fan più canastri Che panchinari Che panchinari Che titolari E dai Fa quello che vuole Rene Skip to my loop E fino in fondo Cioè You tap two steps Volevo dire E fino in fondo Double crossover Bravo Rene E dai Sbagliato E dai Volevo dire E dai Té E dai Timmy 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 D'estolo Paura Timmy Ti Vi Timothy Nelson Mai Non può ragazzi Non può ragazzi Non può ragazzi Perfetti Che cazzata che ho fatto Che cazzata che ho fatto Stan The fucking man Più 10 Avanti 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 Ottime difese sul tiro E loro che non ne mettono uno Let's go Attenzione eh Che adesso Forse saliranno un po' di ritmo 68% A 43 Direi che Block assist Sopra in tutto 10 di Grace 6 di Pippen-Lewis Ok 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 Grazie a tutti. No, morto, rene. Ma Roy, Roy da segnarselo. Uno contro uno con no ha grandato qui. Ancora Roy. Bravo, bravo, buono. Bel fallo, buono. Porco, due. Dio, cara, mamma di Roy, amici miei. Porca puttana. No, no, fallo stupido, fallo stupido, fallo stupido. Nel secondo, ok. Bravi, bravi, grande difesa. In mezzo a tutti. Grace. In mezzo a tutti. Inumano, rene. Voglio tenere costante questo più dieci, per favore. Cosa è successo lì? E vabbè, è lui. Davanti. Sì, che bellezza, che bellezza. Bravo, rene. Incontenibile, incontenibile quando giochi così. Incontenibile. Let's go. Vabbè, lui ne mangia di sti tiri. È la sua roba. Va bene, va bene, va bene. Dovevi tirare lì, Junic, è peccato da due del fallo. No, bravo. No, che intercetto. Oh, shh. Ma chi era questo? Kirkmaier, il centro. Avanti. Come lo vedi? Ma Junic, ma tu che visione hai? Che visione di gioco hai, Junic? Grande palla. È Hopfen in fondo. Così la voglio la panchina. Era quella che mi mancava all'inizio. Mi mancava la panchina all'inizio. Bravo. E via. E via. Vinta, Justin. Non puoi palleggiare in faccia a stene. Non lo puoi fare. 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 Ancora vuota l'assist. Bravo Malik. E bravo Dion. Che grande giocatore che sto riscoprendo pian piano. Allora. Allora. Austin ancora. E in quest'uomo non ha mai... Allora. Pausa mentre dico questa cosa. Quest'uomo non ha mai vinto un Defensive Player of the Year. Stan Austin. Incredibile. La cosa più assurda della PS... Della... Della IVL. Che è un monstro. Che è un monstro. Che è un monstro. Da Rosa. Io non ho più parole. Non lo so. 5 su 5 al tiro. Juan. Adriano. Da Rosa. 16 di plus minus. Sei perfetto. Lui è la madonna. Ma basta ragazzi. Stanno segnando tutti i sostituti. No ma perché? Ma perché? Mi dimentico acceso quel pulsante di merda. Mamma mia. Ok. Prossimo... Vabbè sono 11 secondi. Sicuro tiro in faccia. Vabbè sono 11 secondi. Mi ha ubriacato completamente. Ma completamente. T.P. baby. T.P. baby. T.P. baby. Porca madosca ragazzi. Porca madosca. Sto cambio di passo che c'ha è clamoroso. Clamoroso il cambio di passo. Dai ho entrato e sono entrati. Sono entrati. Chi era questo? Ancora Riperton. Oh signore. Sette punti in trazione ha fatto. Siamo nel momento in cui io continuo a segnare sempre. O sennò è un problema. Perché questi segnano sempre adesso. Sì col fallo. Bravo Nogre. Bravo bravo. Anche se carico male. Tu segni sempre Nogre. Va bene. Va bene. Bel fallo. Bel fallo. Bel fallo. Va bene. Va bene. Abbiamo anche dimostrato che non è un grande tiratore dei liberi. Poi magari fa due su due eh. Però. Va bene. Ma di chi? Ma cosa dice? Non stavo neanche toccando il joystick. Boh. Vabbè. Sono svegliati. Certo che se poi mi fischiano i passi a caso. Ancora. E due. E due. Ma allora. Allora volete fargli recuperare. Dai. Bravo Nogre. Bella pressione. Bravi. Via che si fa. Silva che si vola. Ma. Che palla gli hai dato Posi. Posi scusa mi devo vederla. Poi vabbè. Rimbalzo d'attacco di un play. Rimbalzo offensivo di un playmaker. Va bene. Parte l'errore di Voon. Bastardo. Eh. Non è passata in mezzo alle gambe. Io Voon non so come tu abbia fatto sbagliare questo tiro. Bravissimo. Bravissimo Posi. Bravissimo Posi. No. madonna raga di tutto per regalargli sto canestro di tutto per regalargli sto cazzo di canestro vaffanculo vaffanculo oh mamma mia questo è antisportivo questo è antisportivo vaffanculo mamma di roide del cazzo però sei un gran giocatore bravo rene avanti dai ragazzi due minuti due minuti due minuti adesso ci mettiamo no va bene così va bene così rene eh ci sto dai mamma mia lo stavo perdendo di brutto che difesa che difesa la stelle la chiudiamo mamma mia cosa ha inchiodato rene mille replay in contropiede sembra quasi come se fosse in un videogame no gre no rene no rene sei spettacolare io ti devo baciare tutta la vita guardati guardati la gazellina mia la gazellina mia avanti più dieci l'abbiamo chiusa avanti peccato bene abbiamo vinto una partita tirando poco 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 da tre punti bravissimi bravissimi prene mamma mia no che partita che hai fatto non lo puoi fermare non lo puoi fermare quando poi è fuoco sotto col rosso non lo puoi fermare io vado diretto automatico molto 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 bene molto bene erano arrivati a meno 4 molto bene 8-1 let's go grande record cazzo 8-1 grande record anche perché siamo all'ottava vittoria di fila ragazzi miei sulle mani che match rene che hai fatto che cazzo di match rene adriano da rosa incredibile incredibile 100% dal campo qua adriano un cervello unico rene austin nogre i veri protagonisti 27 27 adriano 10 5 su 5 dal campo perfezione 3 rimbalzi ah no guarda te 9 rimbalzi 3 assist 1 rubata 3 stoppate my god 8 per tipi molto 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 bene c'è anche la tripla di Timmy di qua 12 di mamma di Roy mo ha tirato 4 su 13 terra un po' si marcatura vuol dire ma ovviamente anche lui ha fatto poco 9 di Greiner questo è un gran bel giocatore Mustafa Diknaru 9 6 1 bene 7 volte da 3 punti offensivi ovviamente sempre di più loro difensivi sempre di più io bloc 1 4 bene siamo sempre quelli direi che possiamo simulare adesso fa vedere allora eravamo qui no dove c'era la mia e quella di Simo ah no questa deve essere ancora giocata ah si si allora 8 9 5 6 7 8 ok 5 6 7 8 8 5 6 7 8 sì allora direi che ci simuliamo questa anzi no ci fermiamo ci fermiamo ok ci fermiamo qui voilà se no andiamo troppo avanti stb 1 2 3 1